salva tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto la mia recensione di un prodotto che ritengo veramente indispensabile per le vacanze o per le gite che andate a fare o per i viaggi che andate a fare sì perché questo prodotto è pensato per situazioni più estreme di quello che normalmente abbiamo già a casa che utilizziamo tutti i giorni nelle varie situazioni ma voi direte sì ma di che cosa stai parlando sto parlando di un power bank e voi direte oh sì ma noi ce l'abbiamo già un power bank è vero tutti hanno già un power bank ma il vostro power bank è come questo no perché qua a livello di possibilità di utilizzo a livello di situazioni di utilizzo che veramente lo rendono un prodotto diverso da quelli che utilizziamo normalmente quando andiamo in giro perché questo power bank della blavor è un dispositivo pensato per situazioni estreme quindi direi di non perdere altro tempo di guardare cosa troviamo nella confezione che è questa quando vi arriva a casa e poi lo analizziamo da vicino con tutte le sue caratteristiche e le possibilità di utilizzo che ha in più rispetto a un classico power bank quindi iniziamo l'unboxing troviamo un manuale di istruzioni solo in lingua inglese poi troviamo una cinghietta con moschettone per fissare il power bank ai pantaloni allo zaino con una piccola bussolina dopodiché troviamo un cavetto per la ricarica del power bank usb usb type c ed infine troviamo lui il power bank della blavor completo di pannello solare per tenerlo sempre carico di tre porte per la ricarica dei nostri dispositivi e i led di indicazione di stato di carica del power bank ed infine abbiamo anche due led per illuminare al buio quando ci serve una torcia e dietro troviamo la ricarica wireless ed ecco qua il power bank della blavor come vi dicevo ragazzi è un prodotto pazzesco perché come vedete pensato appunto per le situazioni più estreme ovviamente lo si può utilizzare anche nelle situazioni più classiche però lui è proprio pensato per l'utilizzo secondo me estivo quindi quando c'è tanto sole con il suo pannello solare lo teniamo sempre carico poi essendo un prodotto pensato per le situazioni più estreme non ha paura della sabbia quindi al mare lo possiamo portare tranquillamente appoggiarlo a destra a sinistra anche in terra direttamente nella sabbia lui non ha paura di niente non ha paura degli schizzi d'acqua perché è impermeabile non ha paura della polvere quindi è un prodotto veramente che possiamo portare dappertutto senza preoccuparci che si vada a danneggiare quindi danneggiandosi poi non avremmo quello che è il suo servizio principale cioè ricaricare i nostri dispositivi le sue caratteristiche principali per quanto riguarda le batterie che all'interno sono delle batterie che hanno una capacità di 10.000 mini ampere cosa vuol dire 10.000 mini ampere che questo dispositivo è in grado di ricaricare per farci capire in maniera semplice quasi due volte e mezzo un iphone 14 pro o addirittura in grado di ricaricare una volta un ipad air quindi capite che a livello di prestazione di capacità di carica e tanta tanta roba come abbiamo detto lui ha delle caratteristiche che lo rendono un prodotto estremo ovviamente oltre alla corazza che lo avvolge oltre alla possibilità di ricarica col pannello solare abbiamo anche qua sopra due torce a led che ci danno la possibilità di illuminare appunto quando lo utilizziamo magari per fare delle gite utilizziamo in campeggio quindi quando abbiamo bisogno di avere dell'illuminazione poi per quanto riguarda le possibilità invece di ricarica abbiamo sotto questo sportellino in gomma perché essendo impermeabile a uno sportello in gomma che va a chiudere le prese di carica e di ricarica quindi abbiamo una presa type c che gli permette di essere ricaricato lui e allo stesso tempo è la presa in cui potremmo andare a collegare i dispositivi che dovranno essere ricaricati quindi attraverso questa presa possiamo sia ricaricare lui che ricaricare i dispositivi poi abbiamo per ricaricare i nostri dispositivi una presa usb ed infine abbiamo una presa micro usb quindi queste sono le prese disponibili per la ricarica lui è in grado di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente perché qua dietro abbiamo anche la possibilità di una ricarica wireless quindi andando ad appoggiare il nostro smartphone sulla superficie di ricarica wireless vedete che il telefono entra subito in ricarica questo dispositivo ha una ricarica veloce anche per quanto riguarda appunto la modalità wireless infatti è in grado di ricaricare a 5 volt a 2,1 ampere quindi una ricarica molto veloce che però è progettata per non danneggiare le batterie dei nostri dispositivi come abbiamo detto lui ha queste torce che adesso vi farò vedere in funzione perché qua abbiamo l'interruttore che ci permette di andare ad accendere il power bank quindi qua abbiamo i led che ci vanno a segnalare la quantità di ricarica che abbiamo disponibile all'interno delle sue batterie per accenderlo quindi andare ad accendere i led perché comunque lui è spento normalmente lo dobbiamo andare ad accendere però se per un determinato tempo non viene collegato nessun dispositivo si andrà comunque a spegnere automaticamente quindi per andare ad accendere il nostro power bank basterà fare un click e andiamo ad accendere il nostro power bank mentre per andare ad accendere le due torce per illuminare dovremmo fare due clic prolungati quindi un click teniamo premuto lasciamo riclicchiamo tenendo premuto lasciamo e voilà abbiamo le torce di illuminazione che devo dire fanno anche tanta tanta luce veramente poi andando a fare sempre due clic prolungati quindi clicchiamo lasciamo riclicchiamo e voilà che le torce si sono spente qua da parte abbiamo anche un aggancio per andare a fissare il nostro power bank che ha uno zaino quindi alle cinghie ai pantaloni attraverso il moschettone che ci viene dato in dotazione che avete visto anche nell'unboxing con una piccola bussola ovviamente la bussola è più un gadget per far vedere che questo prodotto è un prodotto per situazioni estreme per fare avventure per fare esperienze in mezzo alla natura ma quello che ci interessa di più potrebbe essere invece il moschettone per andare a fissarlo ad uno zaino appunto o ai pantaloni ma adesso è arrivato il momento di parlare anche del suo prezzo che ritengo veramente basso per le sue caratteristiche per quello che ci viene dato e per la sua possibilità ovviamente di utilizzo estremo questo power bank della blavor lo trovate su amazon quindi vi lascio qua sotto il link in descrizione se volete dargli un'occhiata se lo volete acquistare è un dispositivo che costa attualmente circa 29 euro quindi è un prodotto che sicuramente li vale tutti a volte il prezzo s'abbassa anche con i coupon sconto che amazon ci fa inserire nella pagina d'acquisto comunque il suo prezzo attuale è di 29 euro è sicuramente un dispositivo da avere per le vacanze da avere per le vostre gite per le vostre escursioni di trekking cioè per le situazioni più estreme durante tutta questa estate e poi durante l'inverno ovviamente verrà molto utile per chi va a sciare e per chi va a fare comunque trekking e va a fare comunque gite in situazioni particolari dove bisogna avere un prodotto un po più aggressivo rispetto ai soliti power bank poi invece quando siete vestiti bene alla domenica per andare a messa anziché portarvi lui portate il vostro classico power bank ma per tutte le altre situazioni dovete avere lui il brauer power bank quindi ragazzi se questo mio video in cui ho portato la mia recensione riguardante lui questo power bank della blavor vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità ante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale anche di lui arrivati degli spoiler quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo instagram sempre si va ragazzi iscrivete al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i drone e tutta la tecnologia in generale quindi anche di lui quando sarà messo in offerto avrò dei coupon sconto li trovate sicuramente anche nel mio canale telegram offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o una novità ciao e al prossimo video ciao 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 ciao